Buongiorno, siamo qua per manifestare oggi il disagio che stiamo vivendo in quanto il nostro comparto ospedaliero si è ritrovato a sapere da ieri che i giorni che sono stati fatti di ferie a partire dal 5 marzo o di permesso sono stati messi in cassa integrazione. Cassa integrazione che come spiegava prima Ruggero non ci verrà retribuita, anticipata dall'azienda, bensì a carico del NIMS quando e forse quando sarà. Noi stiamo subendosi ovviamente come tutti quanti quello che sta succedendo all'interno del paese, purtroppo questa emergenza, ma l'ospedale non è un comparto che ha una diminuzione dei pazienti, anzi i pazienti vengono ricoverati, noi dobbiamo comunque essere presenti all'interno dei reparti e con la scusa di reparti chiusi che non è, perché se dovessimo andare a guardare la quantità dei reparti dell'anno scorso ad oggi è minima. Noi nel frattempo abbiamo avuto pensionamenti, infortuni, quindi in quanto a quantità di personale siamo giusta, abbiamo avuto delle colleghe del pomeriggio che venivano a tamponare il nostro turno del mattino, altre colleghe che anche recentemente sono state richiamate dalle ferie o dai permessi per venire a tamponare il turno del mattino, ma ciò non toglie che l'azienda ci ha buttato nello stesso calderone degli altri colleghi purtroppo di Serenissima che con il comparto scuola è costretto a rimanere a casa. Non lo riteniamo corretto perché il nostro comparto riparto all'interno dell'ospedale sta lavorando, quindi non trovo giusto che la cassa integrazione sia nei nostri riguardi, tra l'altro non pagata perché l'azienda non ce l'anticipa. Questo è il disagio che stiamo subendo. Oltretutto, come diceva prima Ruggero, i dpi ci sono stati forniti in ritardo rispetto all'inizio dell'emergenza e ci siamo dovuti appoggiare alla buona volontà dell'ospedale che ci riforniva in merito. Questo è il nostro disagio, quello che stiamo vivendo ora. Ovviamente noi siamo lavoratrici part-time che hanno subito dei tagli a suo tempo con la spendi review. A tal proposito c'era già stata decurtata più di un'ora di orario di lavoro e ci ritroviamo a dover subire ancora quando in realtà non lo riteniamo necessario.